Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele su Eitech. Oggi un video diverso dal solito, un video di gadget, un video di cazzatech. E dove potevo comprare delle cazzatine a basso costo? Beh, sullo shop online Temu. Eh sì, quello famoso tanto chiacchierato che dicono rubarvi i dati e personalmente non so dirvi se è veritiera o no questa cosa, fatto sta che i prezzi sono decisamente alla portata di tutti. Ho voluto sperimentare, anche se l'avevo già fatto in passato con almeno 3-4 ordini ma non vi ho mai portato nulla qui sul canale e oggi lo voglio fare con un primo video perché ne seguirà un altro visto che ho fatto un altro ordine di cose un po' più interessanti proprio con delle cazzatine contenute in questo pacco che devo dire un po' alla buona Infatti rispetto ai primi ordini che venivano spediti la confezione in questo caso lascia un po' meno a desiderare Detto ciò partiamo a vedere cosa ho acquistato non aspettatevi nulla di sconvolgente ma comunque delle cose interessanti a basso costo Detto ciò partiamo con questo piccolo video ma mi raccomando iscrizione al canale lasciare un bel like qualora vi piaccia il video e cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri qui su EITEC Il primo gadget che esce fuori dalla confezione è questo cuscinotto qua Ebbene un cuscinotto che ho voluto regalarmi per l'auto e in questo caso ha questa colorazione così diciamo un beige scuro una sorta di cuscinotto realizzato in finta pelle dove abbiamo questo elastico che ci permette di ancorarlo al sedile della nostra auto andando quindi a creare un supporto proprio per la nuca e infatti l'ho acquistato perché ultimamente trovo un po' fastidioso guidare senza avere un supporto Devo dire che il tutto è anche sfoderabile quindi magari all'occorrenza possiamo andarlo a reimbottire e beh guardate questa clip insomma nulla di che ma vi faccio vedere che lui crea un supporto proprio per la nuca rendendo quindi la guida un po' più comoda Sempre per la nostra auto questo pannettino qua in microfibra Devo dire che già ne avevo uno e mi è piaciuto in questo caso è disponibile in diverse dimensioni questa è la più piccola abbiamo un doppio lato giallo e un lato grigio e un pannetto in microfibra e serve ad asciugare eventualmente la vostra auto quando andate a fare un lavaggio Devo dire che il tutto risulta molto molto ben realizzato un materiale di alta qualità e anche la resa per cui che riguarda l'asciugatura è decisamente ottima null'altro da dire su questo semplice panno anche perché appunto è un panno per asciugare la propria auto ma naturalmente potete utilizzarlo anche per magari le pulizie in casa e molto altro Terzo gadget contenuto in questa confezioncina molto semplice parliamo di un beccuccio realizzato in silicone da questa forma molto molto strana che praticamente serve a creare una prolunga un po' effetto nasone per voi amanti delle fontanelle dove appunto ancorandolo al rubinetto del bagno o comunque della cucina farà fuoriuscire l'acqua in maniera naturale ma andandolo a strizzare permetterà di far fuoriuscire l'acqua da questo beccuccio qua appunto effetto nasone quindi effetto fontanella magari ideale per sciacquarsi la bocca magari quando state lavando i denti nulla di che nient'altro da dire devo dire però il silicone è ben resistente ne sono disponibili in altri colori e nient'altro da dire questa invece è una chicca una lampada tascabile diciamo con portachiavi la vado direttamente ad aprire viene alimentata da un cavetto fornito in dotazione di tipo C e questo è già un valore aggiunto abbiamo appunto qui l'ingresso per la ricarica protetto da questo sportellino in silicone che praticamente rende anche questa lampadina tascabile impermeabile e abbiamo poi qui il pulsante di accensione pulsante di accensione che se premuto una volta appunto accende la nostra lampada e premendolo più volte andrà innanzitutto a creare questo effetto stroboscopico o appunto andare a livellare il grado di intensità del led ma non finisce qua perché abbiamo questa sorta di moschettone per ancorarlo eventualmente a portachiavi, zaini e quant'altro ma abbiamo anche questa piccola diciamo sporgenza che servirà ad aprire le bottiglie quindi praticamente una lampada davvero tutto fare ma non finisce qua perché sul retro abbiamo questo diciamo aggeggino qua che permetterà quindi di posizionare la nostra lampada per farci luce con un piccolo stativo una sorta di piccolo treppiedi chiamamolo così ma ultima cosa, ultima chicca abbiamo un magnete che ci permetterà quindi di ancorarla direttamente a un palo della luce comunque a qualcosa di metallo per farci luce ad esempio anche all'auto magari per visionare le candelette fare il cambio dell'olio e quant'altro devo dire il fascio di luce è decisamente potente ideale quindi magari da portare sempre con voi per fare luce nella notte qualora magari non la strada dove vi trovate non è illuminata altra cazzatina per la nostra auto è questo copri pomello qua l'ho trovato decisamente carino perché guardate qua ha la forma di una piccola felpa guardate qua sembra una felpa per bambini questo lo andate a mettere sul copri pomello delle marce della vostra auto rendendo quindi sfizioso e divertente proprio utilizzare l'auto in marcia andrà comunque a proteggere proprio il pomello magari se avete di quelli in pelle che sono un po' più soggetti a usura e corrosione anche in questo caso sono disponibili di diversi colori e se volete impreziosire la vostra auto rendendola diventente beh guardate qua che carino questo copri pomello piccolo gadget tecnologico è questo umidificatore qua umidificatore che vado anche in questo caso ad aprire subito è contenuto appunto in questa confezione e qui in questo caso andandolo ad aprire all'interno troviamo il cavo di alimentazione in questo caso micro usb e abbiamo appunto le istruzioni ad ogni modo abbiamo il serbatoio dell'acqua dove magari andare a inserire delle essenze profumate degli oli profumati dopodiché richiudiamo il tutto e qui abbiamo il pulsantino di accensione e spegnimento per l'avvio del nostro umidificatore anche qui una misura compatta magari da tenere nel portabicchieri della vostra auto e rendere quindi sempre profumata profumato l'abitacolo della vostra automobile naturalmente può essere posizionato anche su una scrivania e quindi andare in un certo senso a creare un'atmosfera profumata all'interno della vostra stanza tutti quanti questi gadget naturalmente costano pochissimo ed è per questo che ve li porto e poi questa bustina qua che sinceramente non ricordo cosa contenga ma lo andiamo a scoprire insieme anzi eccolo qua sono dei led della luce led un piccolo diciamo una piccola striscia led se non sbaglio da un metro ma anche qui ne sono disponibili di diverse misure che in questo caso permettono magari di illuminare magari una scrivania rendere insomma un po' più piacevole il tutto va alimentato tramite cavo usb ed è fornito in dotazione anche un telecomando che ci permetterà di andare a regolare i led e eventualmente spegnerli o accenderli e cambiare il fascio luminoso in modalità RGB anche in questo caso un prodottino molto semplice a basso costo ma comunque che può tornare utile anche qui per impreziosire le vostre scene video o semplicemente per creare un'atmosfera colorata magari in abbinata all'atmosfera profumata del demodificatore che vi ho apportato prima anche qui molto basso il costo ve lo ve lo straconsiglio terminiamo il video con due contenitori uno è questo qua compatto che servirà è una banale custodia che servirà magari ad inserire dei cavi delle cuffiette delle schede micro SD insomma per portare dei piccoli accessori sempre con voi e proteggerli magari da urti, graffi e quant'altro ma soprattutto per avere sempre a portata con voi tutto il materiale necessario magari per effettuare delle riprese come potrebbe essere una batteria aggiuntiva appunto delle schede micro SD dei cavi magari dei lettori di schede insomma tutto quanto potete metterlo qui all'interno e proteggerlo da acqua, schizzi e soprattutto graffi ed urti in generale altra custodia in questo caso ho scelto questa colorazione viola che praticamente serve appunto anche in questo caso a contenere tutto quello che volete ma rispetto all'altra all'interno abbiamo anche dei divisori quindi andando a regolare all'interno eventualmente capacità della custodia stessa abbiamo qui degli elastici cui ancorare dei cavi delle sacchettine in rete e anche qui per mettere magari schede micro SD e quant'altro ma all'occorrenza potete direttamente posizionare utilizzare la custodia anche magari per un drone oltre che a carica batteria, cavetteria in generale insomma tutto quello che volete considerando che abbiamo una buona capacità di trasporto anche se in questo caso il tutto è realizzato diciamo in un tessuto standard quindi non penso sia resistente ad acqua, liquidi in generale ma ad ogni modo anche qui per avere tutto l'occorrente con voi ad esempio da utilizzare in viaggio per avere cavetteria, carica batteria, powerbank e quant'altro e abbiamo poi anche questa pratica maniglia per il trasporto in modo da avere un ulteriore supporto proprio per la trasportabilità per questo video direi che è tutto ho parlato anche abbastanza spero queste cazzatine vi siano piaciute ma vi ricordo che ne arriverà un altro video con non proprio cazzatine ma gadget un po' più interessanti dedicati ad un aspetto che sicuramente a molti di voi starà a cuore ma non voglio spoilerare troppo per questo vi ricordo di cliccare sulla campanella per non perdere i video futuri e per Emanuele è tutto e gli acquisti su Temu Cazzatec al momento è tutto ciao, alla prossima ciao ciao